Allora, allora No sta facendo un caricamento? Esu! Mira, mira. Primero lo cargan normal, come del lado, e poi... Primero se cierra, come se stavano facendo del frente. E poi se abri tra. Si. Ok, però si... Si se pone... Ronnie, concentra. Concierto. Lo tuyo. Lo tuyo. Lo tuyo. Ehi. Ehi, per la cinta. Ehi, per la cinta. Mi ha mandato alto. Ehi, per la cinta. Ehi, per la cinta. Ehi, per la cinta. Vai in base, dai! Anche basa... Un momento. Un momento. Ehi, per la cinta. Ehi, per la cinta. andiamo a B Grazie a tutti. 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 Un buon contatto, un buon contatto. Corri in vantaggio. No, no, no. Concentrato, concentrato. Dai, diam, diam. La tuya, la tuya, la buena. No, 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 no. Ciao. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Esplota. Esplota, esplota. Esplota, esplota, sabina. va papà, non ti va a pichar facile però suènalo, vamo la scuola, la scuola si sai che, essa tipo hai c'è, hai c'è la tele mappa que ce la cadi, che la che la tirou che la tirou un tito, è qua-bajo, è qua-bajo quattro la spalle, siamo qua-bajo vamo papà, vamo, vamo, vamo chocala, chocala, vamo solo popi vamo papà, vamo venga, vamo prendi, prendi ok, viejo, viejo, vijo, il tuo, spero il tuo l'allarga un pelo no 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 no! no! guardate, guardate! 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 guardate un po' c'è per l'alte guardate! 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 bravo eric bravo eric bravo eric Grazie, grazie, grazie Grazie, grazie Grazie